Ogni anno articoliamo il concetto di virtuosismo secondo dei temi diversi. Il primo anno è stato l'eccellenza, che è un po' lo scopo del virtuosismo. Il secondo anno è stato il gioco, e il gioco è un po' lo spirito del virtuosismo. E quest'anno il tema è lo studio, e lo studio è la metodologia, direi, del virtuosismo. Per questo io invito Luca Ciamarughi a raggiungerci. Luca è scrittore, musicologo, giornalista e anche un grande pianista, un amico mio, se posso rivendicare questo titolo, ma anche di Vincenzo. Un'esitazione perché dovremmo far partire la presentazione. Ero molto nervoso già. Parlavo infatti dunque di Luca, che rintroduco e che ringrazio di essere qua. Lo ringrazio anche perché Luca ha scritto un piccolo saggio sullo studio nell'era romantica e del testo che troverete all'interno del programma. Luca è un artista estremamente attivo, lo potete ascoltare su Radio Classica. Mi raccomando anche di seguirlo su Facebook perché è un'attività veramente molto, molto impressionante. usando però un tema completamente diverso dal romanticismo, mi permetto io di introdurre il concetto di studio, anche lì, abbiamo un piccolo problema tecnico, con San Francesco che non c'entra assolutamente niente con l'Ottocento e con il romanticismo, però che ha scritto una frase che trovo estremamente forte e che mi ha ispirato nell'approccio dello studio. Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Dunque Luca, partendo da questa frase di San Francesco, completamente fuori tema per quanto riguarda il romanticismo, ma spero nel tema dello studio, ti passo la parola. Grazie mille. Sono molto felice di essere qua per il secondo anno e di aver assistito a questo magnifico concerto di Vincenzo Maltempo che è veramente uno dei massimi virtuosi non solo in Italia ma al mondo e ci introduce perfettamente a questo tema dello studio e del virtuosismo. L'anno scorso come Rick Verón ricordava, abbiamo parlato del gioco, spielen, jouer, to play, in tutte le lingue appunto suonare e giocare sono la stessa cosa, meno che in italiano curiosamente, mentre quest'anno ci soffermiamo sullo studio. Ecco questa parola che mette sempre un po' paura in realtà e prima appunto della cena potremmo dire prima il dovere e poi il piacere, ma in realtà la parola studio per i musicisti non è una parola negativa. Io conosco molti musicisti che preferiscono addirittura lo studio all'esibizione perché in effetti se noi pensiamo alla matrice latina del termine studio, studium, studium in realtà si connette all'idea di desiderio, di aspirare a qualcosa. Quindi per un musicista lo studio è il momento in cui si costruisce la base per arrivare in alto. Quindi è veramente una sorta di fabbrica dei desideri potremmo dire, lo studiare. In effetti ad esempio una delle raccolte più famose di studi fatta proprio da un italiano, Muzio Clementi, si intitola Gradus ad Parnassum, al Parnaso, appunto, verso la vetta. Perché? Perché lo studio veramente è non soltanto studio inteso come tempo che il pianista utilizza per esercitarsi al pianoforte, ma anche un genere molto preciso. Ne abbiamo sentiti tre esempi, uno di Liszt, uno dei grandi studi da Paganini, uno di Chopin e uno di Alcan. E questo genere nasce in realtà alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, più o meno in questo periodo, ma prende, diciamo, le mosse da qualcosa che esisteva da ben prima. Sappiamo che la musica strumentale si emancipa da quella vocale intorno alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento. Precedentemente la musica era soprattutto musica cantata, a parte le danze popolari. E durante il Seicento e il Settecento i musicisti sviluppano sempre di più l'arte strumentale. In ognuno naturalmente degli strumenti. Il clavicembalo, più successivamente il pianoforte, il violino e via dicendo. Cosa succede? Che questa tecnica si fa sempre più raffinata e i musicisti scrivono non soltanto pezzi, ma anche una serie di esercizi. Spesso l'idea di esercizio e pezzo addirittura si fonde. Per esempio ci sono bellissime composizioni di Domenico Scarlatti, uno dei massimi geni fra i compositori italiani e di sempre, direi, che si intitolano proprio Esercizi, con due S. Fuono pubblicate a Londra nel 1738 e sono in realtà delle sonate vere e proprie. Quindi sono sia degli esercizi sia delle sonate. Secondo il principio un po' orraziano del miscere utile e dulci, quindi mescolare l'utile al dilettevole. Questo lo ritroviamo anche ad esempio in Johann Sebastian Bach. Il grande Bach, quando scrive il suo clavicembalo ben temperato, scrive sia dei preludi e fughe che sono piacevoli all'orecchio ed estremamente interessanti dal punto di vista musicale, sia in un certo senso degli esercizi che fanno progredire se stesso, ma anche i suoi allievi, i suoi figli. Sappiamo che Bach ebbe 21 figli e molti di loro erano musicisti, quindi nella bottega ci stava anche lo scrivere dei pezzi per i propri figli o per persone che studiavano vicino a Bach. Però appunto l'idea di studio, come la intendiamo oggi e come l'abbiamo ascoltata oggi da Vincenzo Maltempo, nasce, come vi dicevo, intorno all'inizio dell'Ottocento. I centri principali sono Parigi e Londra. A Parigi abbiamo un compositore che si chiama Antonin Reija, che scrive una serie di studi. Il primo a scrivere nel 1801 gli studi e nel 1804 abbiamo degli studi invece di Johann Baptist Kramer, un inglese. Però, diciamo, quelli che portano a trionfo il genere dello studio pianistico sono sicuramente Chopin e Liszt. E lo fanno in un modo molto speciale, mischiando veramente in modo assolutamente sublime quella che è l'esigenza musicale con quella che è l'esigenza invece tecnica. Cioè appunto il far progredire il pianista, questa ascesa appunto verso l'alto, che permette poi attraverso lo studio di suonare pezzi anche più lunghi e impegnativi. Cosa succede? All'inizio gli studi erano soprattutto brani nel genere del moto perpetuo, come abbiamo ascoltato per esempio con lo studio di Chopin. Cioè tante note che si susseguono l'una all'altra addirittura senza pause, però Chopin ha scritto anche studi naturalmente di carattere diverso, mentre poco a poco gli studi si vanno complicando sempre di più e vanno diventando sempre più affascinanti anche dal punto di vista musicale. E si distinguono soprattutto dagli esercizi. E adesso chiederò proprio a Vincenzo di accennarmi quello che potrebbe essere un esercizio. Cosa intendiamo noi per esercizio? Qualcosa che si fa al pianoforte meccanicamente è una formula che viene ripetuta continuamente. Si parte da una formula di poche note e questa formula viene ripetuta tante volte. Facciamo un brevissimo esempio. Sentite che questa formula viene ripetuta e i pianisti si esercitano appunto proprio per strutturare la mano, per avere una base su tutte le diverse tonalità su cui poi costruire il resto. Lo studio è sì qualcosa di tecnico, però diventa qualcosa anche invece di molto musicale appunto. E lo abbiamo sentito con lo studio di Liszt, questo studio da Paganini che abbiamo ascoltato. In che modo Liszt e i romantici fanno diventare queste formule un po' aride? Qualcosa invece che sviluppa anche l'immaginazione del pianista, quindi che trova nuovi colori, nuovi timbri, imitando spesso gli altri strumenti. E qui in effetti Liszt scrive questi grandi studi da Paganini perché prende come ispirazione il violino e trasporta sul pianoforte delle formule del violino. Questo però cosa comporta? Che il pianista deve fare letteralmente i salti mortali. Perché sapete che il violino ad esempio ha i cosiddetti salti di corda, in pratica il violinista con l'arco passa da una corda all'altra con questo movimento. È un movimento che il violinista deve coordinare alla perfezione ma che richiede anche un piccolo spostamento del braccio, non un grande spostamento. Invece sul pianoforte questi spostamenti diventano molto più ampi quando si tratta di passare da un registro all'altro. Facciamo magari un esempio del passaggio di ottave di questo studio. Ecco, qui Liszt chiede veramente di andare verso l'inimmaginabile perché se già Paganini sul violino faceva qualcosa di estremamente spericolato trasportare questo sul pianoforte richiede quasi una doppia fatica perché oltre a queste ottave molto robuste il pianista deve fare dei salti che sul violino sono più semplici. Vi propongo qualche immagine che ci aiuta a entrare un po' in questo mondo del virtuosismo e dello studio. Ecco, questi sono dei strumenti di tortura, diciamo, che venivano usati nell'Ottocento. Dico strumenti di tortura simpaticamente ma nemmeno poi tanto perché in realtà erano dei mezzi che i studiosi di tecnica pianistica utilizzavano per migliorare la tecnica. L'Ottocento è un'epoca sì di romanticismo ma anche di positivismo, cioè si va alla ricerca attraverso la scienza di ogni modo possibile per migliorarsi. Oggi questi strumenti ci fanno un po' sorridere ma al tempo appunto venivano utilizzati per migliorare l'agilità delle dita. Questo si chiama guidamani, fu inventato da Kalkbrenner, pianista, compositore e didatta e è fatto in modo che il pianista doveva appoggiare gli avambracci su questa sbarra in modo da tenerli completamente rilassati e muovere soltanto le dita, quindi per non aiutarsi con gli avambracci. Così le dita svolgevano un lavoro totale, diciamo. Oggi questo metodo in realtà è molto contestato perché proprio Chopin e Lista hanno sviluppato una tecnica che invece ci fa capire che il pianista usa tutto il corpo, non soltanto le dita. A volte quando noi pianisti suoniamo ci capita di sentirci dire ma alla fine le dita non ti fanno male? Ecco, questo in realtà non avviene mai, il pianista non ha mai male alle dita perché in realtà usa soprattutto, cioè soprattutto usa anche spalle, braccia, schiena, piedi naturalmente è molto più facile che abbia male ai gomiti o agli avambracci che alle dita. O alla schiena. O alla schiena, esatto, sì. Ci sono molti pianisti famosi che si devono interrompere l'attività per problemi alla schiena. Dunque, sto cercando di andare avanti ma... Ecco, sì. Troppo. Ecco. Questo ad esempio è un divaricatore per divaricare le dita. È lo strumento con cui Robert Schumann si rovinò la mano perché voleva sviluppare il quarto dito che naturalmente è legato al terzo. Tutti di voi muovendo le dita vi accorgerete che c'è un legamento fra il medio e l'anulare e in realtà era uno strumento abbastanza pessimo perché rovinò la mano di Schumann. Questo si chiama Dactylion. Il pianista doveva infilare le dita in questi anelli. e insomma tanti strumenti. Questo è Scarlatti e qui veniamo a Chopin. Vedete che Chopin, con la sua postura, in realtà ci fa vedere come... anche List, in questo bellissimo ritratto, i pianisti sedevano piuttosto alti in modo da non bloccare i gomiti ma da lasciare le braccia il più possibile libere. Vedete il braccio è libero di muoversi. Abbiamo visto prima con Vincenzo come il pianista appunto come vi dicevo non muova soltanto le dita ma utilizzi per questo tipo di repertorio soprattutto tutto il proprio corpo per realizzare questa musica al meglio. E questo è Paganini naturalmente e via dicendo. Tornando al genere dello studio però c'è ancora qualcosa di interessante da dire perché lo studio non è soltanto il modo con cui i pianisti si perfezionano ma diviene anche un simbolo di ciò che la musica rappresenta nell'Ottocento perché come vi dicevo mentre inizialmente nasce come esercizio poi diventa racconto. L'abbiamo sentito ad esempio molto bene nello studio alla Barbaresca quest'ultimo brano che Vincenzo ha suonato è sì un brano di grande difficoltà ma possiamo anche immaginarlo come una sorta di narrazione potremmo trovarci ad esempio in un serraglio orientale fin dall'inizio facciamo sentire magari proprio l'incipit. perfetto ecco sentite che c'è questo gesto di apertura tra come l'entrata sul palcoscenico ad esempio di un attore dell'attore protagonista e poi questo motivo un po' orientaleggiante all'inizio con qualche inflessione un po' da rapsodio ungherese e poi questa polacca appunto. In questo studio Alcane abbiamo sentito differenzia moltissimo i vari episodi c'è ad esempio un episodio tutti che è un episodio di carattere quasi orchestrale tutti nella musica per orchestra significa che tutta l'orchestra suona e questo cosa significa? Che nello studio Alcane scusate ho detto Liste Alcane pensando all'arapsodio ungherese Alcane appunto pensa al pianoforte come un'orchestra e ho citato Liste perché Liste fu il primo a inventare diciamo il recital pianistico quando lo fece la prima volta a Roma anzi vicino Roma a Tivoli le persone si stupirono moltissimo che un pianista potesse chiedere cinque piastre, questo era il costo per un concerto di solo pianoforte perché all'epoca i concerti prevedevano cantanti musica da camera, orchestra, erano delle accademie cosa succede però? Che la gente dopo aver ascoltato Liste non si stupì più così tanto perché Liste riassumeva nelle sue mani un'intera orchestra e questo possiamo dirlo anche per Alcane il pianista improvvisamente diventava colui che era capace di imitare la voce e l'orchestra e questo naturalmente lo troviamo anche negli studi facciamo sentire questo tutti in cui prima di farlo sentire la mano sinistra riproduce il suono di uno strumento medievale che si chiama ribecca e in effetti Liste scrive proprio ribeche proprio per dare questa idea di bordone così si dice ecco avete sentito che che massa sonora in pianoforte riesce in questo caso a generare proprio per imitare l'orchestra come vi dicevo lo studio diventa una narrazione in parallelo con tante altre tante altre forme di teatro anche il balletto ad esempio che nel settecento era soltanto un atto coreutico cioè una delizia ginnica da vedere diventa ballet d'action diventa pantomiva quello che oggi noi conosciamo come il balletto che è un balletto teatrale cioè attraverso i movimenti i ballerini narrano anche una storia e così anche nello studio appunto come abbiamo sentito non c'è più soltanto la dimensione tecnica ma c'è anche questa dimensione narrativa lo studio in generale rappresenta anche un esempio dell'estetica romantica del sublime l'uomo si sente improvvisamente piccolo di fronte alla immensità della natura come vediamo ad esempio nei quadri di Friedrich di Caspar Friedrich e di tanti altri pittori e percepisce una sorta di appunto sentimento di piccolezza ma anche di difficoltà cosa succede con lo studio e con tante altre forme virtuosistiche e romantiche succede che siccome l'uomo in un certo senso sente questa sproporzione allora proietta il suo desiderio di superare se stesso di trascendentalismo potremmo dire nell'arte lo studio è proprio il mezzo attraverso cui l'artista cerca di superare di andare oltre quelli che sono i suoi i suoi limiti forse possiamo fare anche in questo caso un esempio a tua a tua discrezione di questo di un momento appunto di di grande espansione sonora si esatto beh quello anche abbiamo fatto nel mio studio perfetto ecco tutto ciò per dire appunto per concludere che lo studio è necessario al musicista per aspirare verso qualcosa di altro e diventerà sempre qualcosa che costituisce la base anche per la costruzione di nuovi linguaggi e di nuove nuove vie nel novecento sempre di più lo studio diventerà un pezzo vero e proprio slegato a volte anche dalla componente più meccanica più didattica come vediamo ad esempio negli studi di Scriabin di Alexander Scriabin che vi consiglio di ascoltare perché sono anche meravigliosi o quelli di Rachmaninov altro compositore russo che scrive addirittura degli études tableaux studi che sono grandi quadri appunto narrativi in generale appunto l'idea di studio di virtuosismo oggi come Eric Véran ricordava sempre di più ci ricorda che suonare il pianoforte e suonare qualsiasi strumento non è mai un atto di spontaneismo certo c'è sempre una dimensione distinto però bisogna diffidare da chi si presenta in modo come un parvenu dicendo che porta emozioni alla gente in modo semplice quando sappiamo bene che l'arte in realtà richiede prima dell'emozione tanto tanto sudore e che questo sudore è proprio la base dell'ispirazione grazie grazie